Benvenuti su Ultima Hora News. Nel video di oggi parleremo del terribile segreto che Albano e Romina Power hanno celato fino a pochi giorni fa, riguardante la tragica sparizione di loro figlia Ilenia. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. La scomparsa di Ilenia Carrisi, figlia di Albano e Romina, è un evento drammatico che assegnando profondamente la loro vita e il loro rapporto. Avvenuta nel 1993, ha scosso il mondo dello spettacolo e ha aperto una lunga serie di speculazioni e interrogativi senza risposte definitive. La misteriosa sparizione di Ilenia a New Orleans ha lasciato i genitori in uno stato di dolore immenso e di speranza mai spenta. Albano ha recentemente rivelato che oltre alla scomparsa della figlia, c'era un altro fattore che ha inciso sulla loro separazione, l'abitudine di Romina di fare uso di marijuana. Il cantante ha dichiarato che l'ex moglie fumava spesso, arrivando a farne uso fino a quattro volte al giorno, abitudine iniziata ben prima della scomparsa di Ilenia. Ha poi spiegato che l'uso frequente di marijuana le provocava sbalzi d'umore, passando da momenti di allegria a periodi di malinconia, e che questo rendeva difficile mantenere stabilità e serenità. La rivelazione di Albano ha suscitato reazioni contrastanti e dibattiti accesi tra i fan e sui social, sollevando polemiche e portando molti a riflettere sulla complessità del rapporto tra i due artisti. Romina ha risposto in modo pacato alle dichiarazioni di Albano, affermando che un rapporto duraturo richiede impegno da entrambe le parti e lasciando intendere che, con il tempo, la loro intesa si era indebolita. L'artista ha anche parlato dell'importanza della crescita personale e della collaborazione in una relazione, alludendo al fatto che entrambi avrebbero potuto fare di più per mantenere viva la loro unione. Nonostante le divergenze e le difficoltà, oggi i due hanno trovato un equilibrio professionale e continuano a esibirsi insieme, mantenendo un rapporto di rispetto e collaborazione che testimonia la loro maturità e l'affetto che li lega. E tu cosa ne pensi delle parole di Albano? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.